e salve simmers io sono meriscelle e oggi siamo nella video recensione di the sims 4 avventura nella giungla ragazzi sono contentissima non vedevo l'ora che uscisse e vive 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 lo porterò nel let's play nel senso che andremo a fare tantissime avventure e in questa recensione invece vi mostrerò solo il kes e la modalità compra costruisci perché altrimenti sarebbe lunghissima partiamo allora avventurati a salvadorada i tuoi sim possono provare cibi tradizionali ballare al ritmo di nuova musica seguire le usanze locali e acquistare arredi autentici vestito e sim con abiti caratteristici che spaziano da completi ricchi di motivi colorati a vestiti resistenti e adatti alla giungla scopri un tempio nascosto avventurati nei recessi distanze misteriose dove i sim potrebbero trovare cimeli inestimabili tesori favolosi o andare incontro a un tragico destino i tuoi sim potranno tornare a visitare per affrontare nuove sfide e scoprire altri tesori o trappole quindi le trappole ragazzi cambieranno ogni volta esplora la giungla con il loro equipaggiamento da escursione i sim saranno pronti a inoltrarsi nella giungla e affrontare i pericoli alla scoperta di laghetti nascosti siti di reperti o antiche rovine occhio agli ostacoli e alle insidie naturali dalle api mortali ai ragni velenosi raccogli antichi reperti i sim possono estrarre dal terreno ed esaminare da vicino questi oggetti preziosi al tavolo archeologico per determinare la qualità ma non lasciarti ingannare dai falsi wow ragazzi c'è una nuova sfida di jasmine ok in realtà questa sfida non è nuovissima ce l'avevano già proposta tempo fa però va benissimo la rifaccio volentieri comunque andiamo a vedere subito nella modalità crea un sim guardate qui che bello ed eccoci qui ragazzi con i nostri sim random partiamo dalla sim femmina e guardiamo i capelli e abbiamo ben quattro tipi di capelli allora abbiamo questo intanto io metto sempre il biondo perché si vede meglio ok è bellissimo l'avevo già visto ovviamente nei trailer in altre recensioni veramente bello 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 magari guardiamolo anche in altri colori perché qui dietro cambia un po colore ragazzi quindi mi piace veramente un sacco manteniamo magari il biondo poi abbiamo questa pettinatura wow un po mossa che mi piace così ci piace ci piace questa praticamente è uguale ma cambia la bandana e ovviamente cambia il colore della bandana a seconda del colore dei capelli e poi abbiamo questa che è tipo questa qui però più colorata più così bizzarra potremmo dire sì mi piace mi piace vediamo se ci sono cappelli ne abbiamo ben due c'è questo ovviamente sempre in vari colori ragazzi guardate qua e questo qui questo è proprio da avventuriera ci piace tantissimo bello 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 guardate bello rosa shocking direi accessori nulla trucco nessun trucco come parti superiori abbiamo tutte queste qui guardate quante bellissimo wow tante tante belle magliettine però io le toglierei il cappellino questa magliettina oh bella questa ovviamente è molto esotica sanno molto di avventura questa che è molto normale invece la vedo bene un po con tutto sì questa qui che è super avventuriera bella proprio da esploratrice questa qui e questa qui mi piace e questa qui abbiamo già qualcosa di simile mi sembra a questa maglietta se non ricordo male però mi piace parti inferiori abbiamo questa gonna e le tolgo intanto la parte superiore così vediamo meglio ci concentriamo meglio guardate qua la gonna wow dei pantaloncini bellissimi bellissimi no questi mi piacciono troppo veramente questo è veramente da avventura mi piace tantissimo e anche questo no questo devo metterlo assolutamente io so già chi usare ragazzi nel let's play so già chi usare bellissimo e poi accessori per il corpo sì abbiamo questo qui guardate questo braccialetto bellissimo e abbiamo tipo delle calze molto particolari ci piacciono ci piacciono belle 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 abiti interi ne abbiamo due di abiti interi eccolo qua guardate il primo molto carino molto da vacanziera rilassata questa invece è già più da archeologa guardate mi piace piace molto scarpe e abbiamo solo queste però ci sta ragazzi mi piace anche perché abbiamo uno scenario grandissimo vi mostrerò anche lo scenario però poi lo visiteremo meglio nel let's play quindi mi raccomando e tipo di look ne abbiamo ben quattro abbiamo questo che mi piace questo qui guardatela ovviamente sempre in vari colori bella 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 poi questo che è proprio da avventura e mi piace un sacco e questo che sta bene con la bandana in realtà mi piace mi piace vediamo subito le aspirazioni e gli eventuali tratti dovremo avere una nuova aspirazione ecco qua anzi due nella sezione natura abbiamo questo esploratrice della giungla il sim vuole esplorare la giungla poi abbiamo in conoscenza questo qui studiosa di archeologia il sim vuole capire l'archeologia ci piace quindi ben due aspirazioni nuove ragazzi vediamo tra i tratti se c'è qualcosa no non c'è nulla va benissimo quindi lasciamo così e quindi le aspirazioni le abbiamo viste andiamo per i maschi oh ecco qua anche per i maschi abbiamo una bella bandana mettiamoli sempre biondi così vediamo bene simile appunto a quella delle femmine abbiamo questi capelli questi capelli mi piacciono un sacco ragazzi questi capelli sempre simili a quelli delle ragazze e quest'altra bandana perfetto vediamo qualche barba se c'è nessuna barba accessori anzi cappelli prima si cappelli si appunto come per le donne sono bellissimi mi piacciono troppo belli 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 accessori nessuno trucco ovviamente nessuno perché non c'è da per le ragazze parti superiori uh quante anche per i maschi guardate qua giacchettine uh questo è molto rilassato forse sembra quasi da persona un po' anziana no lo so però mi piace dai ci può stare questo invece piace tantissimo questo qui guardate no questo sa proprio da giungla giungle man abbiamo questo bellissimo parti inferiori uh guardate qua aspettate togliamo la parte superiore ok bello questo qui no guardate qui ha tipo un simbolo mi piace troppo questi qui simili a quelli per ragazze e questo qui no bellissimo questo bellissimo wow bello 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 e vediamo gli abiti interi nessun abito intero che peccato vabbè tipi di look ne abbiamo ben 5 dei tipi di look allora abbiamo questo qui molto rilassato dai ci sta campagnolo con il lama qui bello disegnato poi abbiamo questo davvero avventuriero della giungla guardatelo qua com'è se la tira questo qua che mi piace troppo poi questo qui bello sempre in vari colori ovviamente e questo qui oh bello 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 questo forse mi piace un po' meno degli altri gli metterei subito questo cioè questo è proprio il top ragazzi accessori diciamo per il corpo no non ce ne sono calzini no scarpe si come per le donne uguali uguali quindi va bene guardiamo i bambini per i bambini intanto non ci sono nuove aspirazioni non ci sono nuovi tratti ovviamente come per gli adulti ok e quindi guardiamo subito i capelli per maschi nulla cappelli uh abbiamo questo cappello però guardate qua per maschi abbiamo questo cappellino molto carino accessori nulla trucco nulla magliettine due eccole qua una due e questa magliettina qua molto carina anche per stare a casa bellissima nessuna parte inferiore nessun accessorio scarpe nulla nessun abito intero tipo di look invece qualcosa c'è ma è femminile beh anche maschile in realtà è tipo unisex quindi va bene ma diamo un'occhiata anche alle bambine vediamo se hanno qualcosa in più tra i capelli nulla nessun cappello nessun cappello se non quello appunto per i maschi poi è tutto credo ragazzi uguale ai maschietti esatto tutto uguale quindi diciamo che è inutile da rivedere nessun abito intero niente ok uguale ai maschi bebe diamo un'occhiata anche bebe giusto per scrupolo ma credo non ci sia un po' niente infatti nulla nulla e nulla e nessun tratto nuovo ok ho tenuto solo gli adulti andiamo a vedere la modalità compra e costruisci ok ragazzi guardate qui vi ho messo quasi tutto dico quasi perché alcune cose sono prettamente da giungla e magari quelle le vedremo appunto in game però il più c'è e sono tantissimi oggetti nuovi ragazzi tantissimi non sto nemmeno a delencarli tutti ah giusto c'è anche qualche nuova fantasia per muri ok ho messo anche le fantasie per muri perché appunto me le stavo dimenticando sono tantissime guardate qua oltre alle porte io ve le scorro ragazzi c'è addirittura questo nuovo recinto guardate qua porte pensili guardate guardate questi rampicanti guardate queste piante nuove fantasie guardate qua veramente bellissimo e anche per pavimenti ovviamente sempre in vari colori mi piace tantissimo e poi passiamo agli oggetti perché abbiamo proprio dei letti nuovi bellissimi un nuovo cespuglio in cui fare fichi fichi evviva oppure da fertilizzare perché avranno bisogno di andare in bagno i nostri sim poi abbiamo varie varie sedie guardate sgabelli poltrone mobiletti un nuovo cammino bellissimo guardate qua quanti tavoli mobili guardate è tutto curato tantissimo veramente bello guardate qui un'altra console mobiletto guardate bello 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 questo sta bene in salotto anche questo invece da esterni secondo me sta benissimo guardate qua guardate questo si può arredare una casa intera praticamente guardate e poi abbiamo nuovi vasi ovviamente bellissimi un nuovo chiosco tutto da scoprire qui è la bancarella in cui appunto vedremo dei venditori vi venderci le cose per andare nella giungla ben attrezzati un nuovo bar piante le luci questo è il tavolo archeologico qui abbiamo una nuova vasca da bagno una nuova doccia bellissima un lavandino bello 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 poi abbiamo guardate qui dei vasi appunto decorativi ma sono bellissimi perché proprio sanno di posto esotico quindi mi piace tantissimo vabbè poi qui c'è l'insegna benvenuti nella giungla e qui c'è addirittura uno scheletro che speriamo non prenda vita ma abbiamo visto dei trailer che probabilmente gli scheletri ci saranno dei tappeti nuovi guardate qui sempre in vari colori vediamoli un attimo mi ispirano tantissimo guardate qua bellissimo bellissimo anche questo e anche questo anche da mettere in caso ovviamente poi qui abbiamo tipo un gazebo molto 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 carino e uno scrigno del tesoro bello ah qui ovviamente abbiamo una teca in cui mettere tutti i nostri trofei diciamo tutti i nostri tesori trovati qui abbiamo appunto un mobiletto in cui andare a cambiarci abito bello questa è una nuova griglia ragazzi una nuova griglia bellissimo e poi questo bellissimo frigo possiamo farci la cucina nuova stupendo ragazzi stupendo vediamolo in vari colori direi di provare ad aprire lo scrigno magari apri lo scrigno ah ecco qui non c'è niente giustamente noi possiamo praticamente metterlo a casa e metterci i nostri tesori all'interno bello come se fosse un bauletto mi piace molto qui non possiamo interagire potremmo riempire il tavolo e vendere le nostre cose ma adesso giustamente è vuoto questo è il tavolo archeologico lo possiamo mettere nell'inventario ma se avessimo qualcosa da studiare potremmo appunto studiarla qui ragazzi e questo lo vedremo nel let's play direi di fare un'ultima cosa con loro due li facciamo partire e andare in vacanza ovviamente non andremo a vedere nel dettaglio tutto però diamo una sbirciatina possiamo anche chiamare jasmine holiday che bello allora prenditi una vacanza con antonio benissimo e andiamo e come potete vedere ragazzi adesso accanto a granite falls abbiamo un'altra meta vacanza che è selva dorata che bello non ho parole allora ci sono anche dei punti di domanda e questi punti di domanda sono tutti luoghi ragazzi da scoprire abbiamo dei lotti vacanza se non sbaglio sì e sono da affittare vedete proprio come a granite falls bellissimo e ne abbiamo uno due tre quattro da affittare abbiamo questo lotto comunitario che è tipo un bar questo museo e questa è la zona di mercato del puerto l'amante viene emergerti nello scenario di selva dorada procurati l'attrezzatura essenziale prima di dirigerti verso la giungla oppure rilassati prova la cucina del posto e scopri la cultura locale fai un salto al mercato poco distante della taverna qui invece abbiamo scopri i segreti della giungla gli esploratori determinati che si aprono un varco nella giungla più fitta possono scoprire luoghi appartati dove è possibile trovare tesori rari le leggende locali descrivono un tempio che si risistema misticamente nei recessi delle rovine omiscane quindi ragazzi ogni volta che noi andremo a esplorare cambierà tutto sarà bellissimo e questa è la giungla giungla di belomisia la giungla è ricca di bellezze straordinarie e di pericoli nascosti gli avventurieri coraggiosi possono esplorare le rovine degli antichi omiscani qui sim abili e quegli equipaggiati dell'attrezzatura in vendita al mercato si troveranno a proprio agio e noi possiamo partire e andare direttamente qui va bene ragazzi allora io direi che con questa recensione ci fermiamo qua dal prossimo let's play andremo ad esplorare la giungla vediamo se qualcuno di voi in descrizione indovina con chi andiamo va bene ci fermiamo qua mettete tanti tanti like iscrivetevi commentate tantissimo e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti